Mi servono crediti? FIFA 15 Coinsmart Troverete il link e il codice coupon qui in descrizione Sono veloci, affidabili ed economici Yeppa ragazzi, bentornati su Juvihd Sport E benvenuti nel ben settesimo e ultimo episodio della serie Road to Glory Come state vedendo siamo in divisione 1C Rimangono 3 partite per poter vincere il titolo Anche se è difficile perché dobbiamo vincerle tutte e 3 Sono 14 punti, abbiamo 14 punti Questa è la nostra squadra Abbiamo Jovinko, Darvor, Amos, Vidal Una buona squadra direi E dunque ragazzi è arrivato il momento di giocare le ultime 3 partite della serie Finita questa serie inizierà una nuova serie E vedrete il posto, ho già fatto il posto sulla pagina Facebook Nel quale vi dico già che serie sarà E dunque ragazzi Vediamo un po' È arrivato il momento di giocare la terza e ultima partita La squadra avversaria è questa, abbiamo Bella, interessante Abbiamo Lambert, Schwarzenegger come mediani Tre partiti da Mkhitaryan esterni Erman e Aubameyang Terzini, Brzez, che non so come si dica, Alaba Poi benentiamo Bumbles, Leno in porta e attaccante Ramos Anch'io ho Ramos, quindi c'era una battaglia del bug Ramos per Mkhitaryan, la larga lunga Erman Erman il tiro, la parata di, di chi cazzo, di Sirigu Palla per i Barbo La corsa velocissima di Barbo Il balonetto di Barbo Ed entra, non entra Vaffanculo Ramos palla a lunga per Aubameyang Di velocità, Aubameyang Il tiro di Aubameyang La parata di Leno Aubameyang in velocità Su quella fascia che Non si deve nominare Il cross in mezzo con la testa di qualcuno Ci arriva però Vidal Ci pensa a lui E prendere la palla e poi a spazzarla di piedi Poi ancora L'avversario con Erman Erman sulla fascia Il cross in mezzo per si arriva alla testa di qualcuno Ma non c'è niente Ramos Di velocità Ramos Ramos Il tiro di Ramos Il tiro di Ramos Attenzione ad Erman In velocità contro Barzali Barzali non riesce a prenderlo Erman il cross in mezzo Jovinco Riceve questa palla Jovinco attenzione In mezzo Per i Barbo I Barbo non ci arriva Aubameyang Si libera Aubameyang per i Barbo I Barbo Tutto solo col portiere Non si fa un cazzo Punizione interessante Vediamo chi facciamo battere Jovinco Però poca potenza tiro Aubameyang Jovinco Ti facciamo Diciamo Jovinco Dai Prendiamo la mira Jovinco La punizione di Jovinco Su una barriera No 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 Alaba Alaba La parata di Sirigu E Sirigu Il gol Persino sinistro Calcio d'angolo Alaba La battuta Il cross in mezzo Sarà un gol Certo? No Attenzione Questa palla per Mkhitaryan Vai No Non ci credo Porca miseria ladra Porca miseria ladra All'inizio del secondo tempo Ma Baffanculo Cazzo Cazzo Aubameyang Lasciato solo Cazzo Cosa cazzo fate? Vai Vai Elcia Tirate e segna Ma segna così Stefanino Elcia Naui Quando c'è da segnare Con le Pokémon che segna Lui segna Che cazzo sto segnando Sto dicendo Come inchiata Attenzione a Jovinsteiger Il tiro di Jovinsteiger Sirigu Però alzati subito Sirigu Per Rappameyang Si gira In area di rigore Per Jovinsteiger Il tiro L'intercettazione No Erman Sempre da solo Erman Sirigu Bravissimo Sirigu Ramos Il cross Per cercare la testa Di Barbo C'è Jovinco Tira Tira Ma vaffanculo Dovei tirare prima No No Non possiamo Farsi subire il gol Ottimo Finisce dunque Qui la partita Che palle Però Ho veramente Tirato tanto In porta Ma Non è servito Quasi un cazzo Tutti questi tiri Barzagli Mirò in campo Bene 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 Dunque ragazzi La serie Termina qui Purtroppo Non serve a niente Che vi porto Altre due partite Perché abbiamo Ottenuto La salvezza E Va bene così Ragazzi Va bene così E dunque ragazzi La serie Si chiude qui Ottenuto la salvezza Come abbiamo Come avevo detto All'inizio di questa serie Che dire Vi ringrazio per ogni Video Di questa serie Che avete visto Continuate a seguirmi Sul canale E Non dimenticate Il mi piace A questo video E No Ci vediamo Con una nuova serie E con nuovi video Sempre su questo canale Ciao ragazzi E Grazie a tutti